Dal Ministero dei Beni Culturali arrivano soldi per l'acquisto di libri alle biblioteche civiche regolarmente aperte al pubblico, a farne richiesta nel Vallo di Diano, Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, San Pietro Altanagro, San Rufo e Teggiano, e una misura di sostegno all'editoria libraria connessa all'emergenza epidemiologica da Covid, per sostenere direttamente o indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, librerie, editori, autori, le stesse biblioteche pubbliche. Nel decreto dello scorso 4 giugno si prevedeva l'assegnazione di contributi per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli istituti culturali. I contributi assegnati devono essere utilizzati per arricchire il patrimonio librario acquistando almeno il 70% dei nuovi volumi in almeno tre librerie locali. La Direzione Generale Biblioteche del Ministero ha pubblicato nei giorni scorsi l'elenco dei beneficiari. Per quanto riguarda le strutture bibliotecarie del Salernitano, vi sono 33 beneficiari. A livello comprensoriale hanno ricevuto un contributo di 2.143 euro le biblioteche comunali di Montesano sulla Marcellana, San Pietro Altanagro, San Rufo e Teggiano e un contributo di 10.000 euro è stato assegnato alla biblioteca comunale di Sala Consilina. Le risorse permetteranno l'ampliamento delle collezioni librarie e contemporaneamente il sostegno alle librerie locali.